E' iniziata ieri l'undicesima edizione del festival internazionale di scacchi I di Oscuri Memorial Filippo Vedro. Il torneo, articolato in 5 turni, ha visto al via la partecipazione di una sessantina di giocatori provenienti dalle varie province siciliane. Nelle eleganti e confortevoli sale dell'Hotel della Valle di Agrigento si disputeranno fino al 18 di novembre delle autentiche battaglie della mente. Perfetta l'organizzazione dell'Associazione Scacchistica Leonardo di Favara che, come per il precedente torneo Città di Agrigento, è riuscita anche questa volta a mandare in diretta web la partita giocata in prima scacchiera. Nel primo turno il match tra Cino Giuseppe e Soschi Alexander per gli appassionati è stato possibile seguirlo da casa. Oggi, online, sarà visibile la partita Soschi Valguarnera. La direzione arbitrale è di Lino Sgarito, coadiuvato a Carmela Cibella. Fondamentale è la collaborazione organizzativa di Daniele Marturana e Alfonso Ruoppolo che hanno sacrificato la loro partecipazione come giocatori per lavorare sulla buona riuscita della manifestazione, il primo per la logistica e il secondo come tecnico per la trasmissione delle partite live. Il presidente dell'Associazione Organizzatrice, Calogero Sgarito, nel dare il benvenuto alla manifestazione ha ringraziato tutti i partecipanti, mentre Lino Sgarito, prima del bianco in moto, ha chiesto un minuto di silenzio in memoria di Aurelio Napoli Costa, che tanto ha dato per il movimento scacchistico siciliano.